Dopo l'Icaterre al monte ancora una nidificazione di tartaruga marina sulle coste agrigentine. A Menfi, incontrata a Capparrina, è stata localizzata sulla spiaggia e messa in sicurezza un'altra covata che una mamma tartaruga marina ha lasciato in custodia alla città. Come avviene in questi casi ormai sempre più frequenti, è scattata la procedura del progetto tartarughe WWF autorizzato dal Ministero dell'Ambiente che ha verificato la veridicità dell'indicazione ricevuta ed informato Comune, Guardia Costiera e Ripartizione Faunistica per i provvedimenti di competenza. Intanto i volontari del WWF hanno provveduto a collocare una recinzione provvisoria e custodiranno il sito fino alla schiusa delle uova che potrebbe avvenire a metà luglio. La bellezza della natura ha baciato ancora una volta questa costa, tanto amata dalle creature libere del mare che la frequentano naturalmente. Un altro nido è stato identificato in località Giallonardo, a Real Monte, ma una volpe è arrivata prima che gli operatori del WWF potessero mettere in sicurezza le uova. E il WWF annuncia che sarà un'estate ricca di scoperte.